Oggi, 13 ottobre, tra gli ospiti di Verissimo ci sono Giulia e Silvia Provvedi. Le due sorelle gemelle hanno vissuto un'intervista toccante, segnata da momenti di pianto, mentre ricordavano il padre recentemente scomparso, la madre in difficoltà e la complessa situazione familiare di Silvia, il cui compagno è stato arrestato durante un'operazione contro l'andrangheta. Le donatella, visibilmente commosse, hanno ripercorso la loro felice infanzia, esprimendo gratitudine verso i genitori che le hanno cresciute con libertà. Siamo diverse, ma ci completiamo. Gli ultimi quattro anni sono stati molto difficili, hanno affermato. Hanno poi parlato della madre, colpita da un aneurisma cerebrale con emorragia. Capiva tutto, ma non riusciva ad esprimersi. Ci siamo occupate della sua riabilitazione. Ci dice che siamo i suoi gioielli e come potremmo mai lasciarla. Hanno descritto il mese di dicembre come particolarmente duro, con la perdita del padre e il rischio di perdere la madre. Ci siamo dedicate a lei in ogni modo possibile. Vogliamo vederla rinascere. È una donna forte. Dopo la morte di papà, ha iniziato a fare volontariato, ed è stato un grande passo per il suo benessere. La mamma ha detto che papà l'ha salvata, è vero? Ha chiesto Silvia Toffanin. Sì, dopo che papà se n'è andato, lei non lo sentiva più. Ma dopo l'operazione, anche con un principio di coma, è tornata a sentirlo. Nonostante tutto, ha una luce dentro di sé, per chi ci crede, hanno risposto le sorelle. Giulia ha raccontato di essere corsa dal padre nel momento più difficile. Non poteva restare da solo, ha detto in lacrime. Tendo a mostrarmi forte, ma ci sono momenti in cui dobbiamo essere noi a sostenere. Quell'immagine è stata devastante per me, mi ha scossa profondamente. Dopo l'impatto iniziale, si esce da una bolla e si affronta una realtà crudele. Ci si chiede, perché a me? Ma in verità accade a molte persone. Sembra una nuova sfida da affrontare insieme, con determinazione. Silvia Provvedi ha condiviso i suoi sentimenti riguardo alla figlia Nicole, che poi è entrata in studio. Andiamo avanti, procediamo. Spero davvero che torni presto, siamo molto legate. Cinque anni sono tanti, ma voglio sottolineare quanto sia unico e speciale. E quanto sia importante per me come compagno e come papà. La sua assenza si fa sentire. Abbiamo sempre avuto un legame profondo e, ovviamente, la sua partenza è stata una grande perdita per me. Ci manca tanto. Aspettiamo con pazienza. Poco dopo, la piccola è entrata in studio.